Come è facile essere ormai presenti in un congresso, lo vedete dal fatto che io e Marco siamo nello stesso luogo e ci alterniamo con un computer. Bene, come ha annunciato poco fa Marco, essendo Presidente Tesoriere, la mia relazione sarà più o meno unica, anche se partirei con ringraziare gli iscritti di Liberi TV che hanno permesso la crescita di questa associazione nell'arco di questo anno che si sta concludendo. Io vorrei ringraziare anche Donato Volpicella che ha sempre mantenuto stabile il nostro sito, la pagina Facebook, YouTube, insomma l'aspetto tecnico Donato Volpicella lo ha sempre gestito al massimo migliorandolo e questo secondo me è un ringraziamento doveroso da fare, come è doveroso ringraziare Gianni Colaccione per la sua presenza sul territorio. Se non fosse per lui, io credo che delle realtà come anche le riprese del settimo municipio di Roma non sarebbero state possibili. Ringrazierei anche lo stesso Davide Tutino e coloro che hanno contribuito alle riprese e alle attività di Liberi TV. Ma ci sono state anche delle novità, io penso che la crescita di una realtà come Liberi TV che è un'associazione, lo dico sia da Presidente che da Tesoriere, dove è possibile iscriversi, dove è possibile partecipare perché abbiamo sempre bisogno di risorse sul territorio a livello volontaristico ma anche ovviamente rimborsati dalle attività che Liberi TV svolge per l'appunto. Bene, io ci tengo anche a precisare un altro aspetto molto importante che è quello dell'obiettivo che ci eravamo dati inizialmente come Web TV, che era la Web TV di servizio, è cresciuto proprio il messaggio, penso che sia stato recepito dal territorio, non soltanto dal territorio locale, dove vivo io ad esempio, dove vive Marco, dove vive Gianni, dove vive anche Donato. Ma questa piccola Web TV che inizialmente era nata come una voglia di comunicare appunto liberi idee è diventata sempre di più questa realtà riconosciuta a carattere nazionale. Io lo vedo nelle attestazioni di stima da parte delle persone che ci riconoscono, delle persone che vogliono partecipare alle attività e non soltanto parliamo di persone che hanno una preparazione giornalistica, lo abbiamo più volte fatto notare, ovvero che basta un semplice smartphone, un cellulare di nuova generazione ma ce ne sono anche di meno costosi che comunque riescono a fare greggiamente il loro lavoro. Noi chiediamo alle persone di inviarci il loro video che noi pubblicheremo sul nostro sito, sulla nostra pagina di YouTube e che saranno appunto questi video disponibili liberamente perché noi tutti i video li pubblichiamo con licenza Creative Commons, ci tengo a precisarlo. In licenza Creative Commons bisogna citare la fonte del video ma il video è libero, si può divulgare tranquillamente. Tra l'altro mi piace anche ricordare, e questo forse lo farà anche Gianni in seguito, che degli spezzoni di nostri video, realizzati ad esempio da Gianni Colacione, sono stati utilizzati per delle trasmissioni molto note come ad esempio Pallarò o Presa Diretta. Questo io credo che sia utile perché il senso della web tv qual è? E' proprio questo, il senso di libri tv è la libera informazione, non essendo noi professionisti dell'informazione, non essendo noi giornalisti, ci avvaliamo della nostra sensibilità e della sensibilità delle persone che hanno qualcosa da dire, per l'appunto liberi spezzi di parola altrimenti si chiamerebbe probabilmente in un altro modo. Io ne faccio un risultato positivo, ogni anno che passa vedo crescere non soltanto le iscrizioni ma vedo crescere proprio l'interesse oltre ai video che sono diventati alcuni virali sulla rete, ma l'importanza non è soltanto la visibilità dei video stessi, ovvero le visualizzazioni, quanto l'archivio che stiamo riuscendo a costituire che come un patrimonio per l'umanità è a disposizione di tutti. Voi pensate ad esempio questo video che noi stiamo registrando in questo momento, sarà comunque fruibile sulla rete, fino a quando la rete esisterà, chiunque potrà a distanza di 10, 20, 30 anni poter vedere questo discorso pionieristico dove noi abbiamo sempre desiderato che anche di piccoli discorsi o argomenti poco noti fossero divulgati il più possibile per dar modo anche a persone affecchie ad esempio da disabilità di poter senza uscire da casa, poter comunicare un loro modo di essere, una loro realtà, perché ognuno di noi ha la possibilità di esprimersi liberamente attraverso questi mezzi di informazione, di mezzi di comunicazione che sono comunque in aiuto di chiunque. Ad esempio può capitare che io non possa essere presente a un congresso fisicamente, ma attraverso mezzi come Skype, attraverso YouTube che adesso stiamo utilizzando per fare questo streaming, vi è la possibilità di divulgare un contenuto che altrimenti andrebbe perso. Molti congressi sono stati ripresi dai liberi tv di varie associazioni, molti interventi, lo dicevamo prima, il settimo municipio di Roma ha beneficiato dei servizi di liberi tv, ma soprattutto della presenza di Gianni e queste sedute sono state registrate e possono essere liberamente fruibili. Quale patrimonio più grande se non quello della politica che comunque viene a essere documentato nell'arco degli anni e quindi può essere certificato, rivisto, riascoltato? Un esempio, scusate il giro di parole, è Radio Radicale che con il suo potenziale, con il suo archivio lungo circa 50 anni è riuscito e riesce ancora ad oggi a mantenere vivo l'interesse dei suoi ascoltatori. Questa mia relazione come presidente non può che concludersi con quella di tesoriere. Ovviamente voi sapete bene che un'associazione per poter andare avanti ha bisogno di risorse economiche. Le risorse economiche però in questo caso sono, io direi, un aspetto molto limitato perché non che non sia importante i rimborsi spese o ad esempio il merchandising, ma noi ne facciamo più che altro una questione di sostentamento per le iniziative che si vanno a svolgere. Ognuno di noi presta volontaristicamente la propria opera e quindi i costi sono molto ridotti, anzi riusciamo a essere presenti sul territorio perché ognuno di noi dà quel valore aggiunto e ognuno di voi dà quel valore aggiunto prestandola personalmente la propria opera. Io come tesoriere posso dire che chiudiamo con un bilancio attivo, sicuramente ci sono state delle spese diciamo normali per un'associazione ma le quote di iscrizione di 10 euro per l'anno 2014, ad esempio penserei alle altre attività che si sono svolte come per esempio il contributo di rinnovo del dominio, utilissimo per gestire il nostro canale, ma molte diciamo delle entrate sono appunto pervenute tramite i contributi per le riprese del settimo municipio. Ci sono state varie liberalità donate da vari soci, anche da persone che hanno deciso di non iscriversi a liberi tv ma hanno deciso di partecipare dando un contributo alle volte anche di 10 euro, 5 euro o anche di un solo euro nel caso del merchandising quando ad esempio qualcuno di noi ha partecipato a qualche congresso anche l'accendino, il famoso accendino dei liberi tv con l'apri bottiglie un euro ha fatto in modo che potessero essere integrate le nostre le nostre finanze o le vostre finanze. Io a questo punto vorrei continuare sempre con il bilancio consuntivo del 2014 non leggendovi l'elenco delle voci anche perché lo potete trovare tranquillamente sul nostro sito che è www.liberi.tv ma descrivendovi diciamo in breve quelle che sono state le spese un po' più diciamo importanti, io posso dire ad esempio che delle spese importanti che ci sono state sono quelle relative ai rimborsi del nostro caro direttore Gianni Colacione che devo dire la verità se non fosse lui e lo ripeto presente a Roma probabilmente non avremmo potuto realizzare le interviste, i servizi ma io come presidente e come amico soprattutto lo ringrazio di questa possibilità che lui ci dà è ovvio che ci sono dei rimborsi spesa, la maggior parte vanno appunto a Gianni che è la persona presente sul territorio, colonna portante dei libri di bussing dalla sua fondazione, quelli che non abbiamo rimborsi perché sul territorio bene o male ci muoviamo meno, siamo io, io e Gianni, io e Donato oppure io e Marco ma Gianni comunque giustamente percepisce questi rimborsi perché è sempre in giro con la sua macchina e i risultati li vedete pubblicati sul nostro sul nostro sito e sul canale sul canale YouTube inoltre abbiamo ovviamente le spese di tenuta contocorrente ci sono anche delle delle entrate dei versamenti che vengono attraverso Paypal inoltre possiamo vedere delle spese per il merchandising che comunque hanno avuto il loro il loro diciamo utilizzo nel nel poi nel nel rinquisto di altro merchandising quindi si è arrivati a un saldo di cassa positivo di più di 2000 euro e per un'associazione come la nostra che comunque nasce soprattutto per avere uno scopo di utilità sociale infatti la nostra è una situazione fondamentalmente di promozione sociale cerchiamo in tutti i modi di rimettere sul territorio queste queste entrate che che abbiamo anche perché noi siamo aperti a le collaborazioni con altre associazioni siamo aperti a chiunque voglia avvicinarsi a liberi tv chi avesse bisogno appunto di un rimborso da noi lo può sicuramente avere anche se comunque ripetiamo ci basiamo unicamente sulle iscrizioni sui contributi dei soci e soprattutto sul lavoro volontaristico di chi decide di partecipare attivamente alla vita di liberi tv io prima di concludere vorrei semplicemente parlare del bilancio preventivo per l'anno per l'anno diciamo per l'anno 2016 mi ricorda marco marchese qui al mio fianco ovviamente il rinnovo del dominio è essenziale il merchandising ripete ribadisco è qualcosa che noi facciamo con il figlio di poter essere presenti anche con il nostro logo che è molto bello e questo logo io voglio ricordare anche stefano russo che ce lo ha donato stefano russo è un amico che è stato tra i fondatori di liberi tv e ci ha donato un bellissimo logo che è quello che voi vedete non soltanto sulla nostra home page ma che vedete sui video vedete sulle penne sulle magliette che abbiamo fatto stampare sugli accendini e su tutto quello che in futuro sarà il merchandising di liberi tv prevediamo ovviamente degli imborsi spese io ho messo orientativamente di circa 500 euro ma vedendo un po l'evolversi delle attività dei libri tv direi che queste queste spese potrebbero aumentare non di moltissimo poi ci sono spesi di cancelleria soprattutto per l'invio di delle delle tessere di del liberi tv ribadisco che e ricordo che l'associazione liberi tv è una situazione di promozione sociale senza fini di lucro che si può si ci può iscrivere all'associazione ma si può anche contribuire oppure si può semplicemente partecipare all'attività dei libri tv chiedendolo a noi insomma della della redazione di liberi tv vi chiediamo semplicemente di mandare un email al direttore gennico lacione o a me o a donato colpicello o a marco marchese dove chiedete di partecipare all'attività sia come reporter di liberi tv o semplicemente perché volete raccontare la vostra storia o avete una storia da raccontare in relativa al vostro territorio a una da un evento che avete vissuto in prima persona e per essere voi stessi gli artefici di liberi tv a questo punto io vorrei semplicemente dirvi che le attività dei liberi tv proseguono come sempre da qui non ci siamo fermati praticamente per per queste feste di natale anche perché donato o dovanato colpicella sempre continuato il suo lavoro da casa come come è sempre stato ribadisco e come ha fatto anche gianni colacione in questi in questi mesi a tal proposito io vorrei ricordare anche la presenza silente ma fino a un certo punto di silvana bononcini che quando si svolgono le riunioni di liberi tv da consigli sul da farsi diciamo dal dalla sua lunga esperienza non solo in ambito radicale ma diciamo dalla sua esperienza in ambito comunicativo mi fa anche piacere ricordare che gli iscritti di liberi tv sono persone di svariate astrezioni sociali quindi non ci sono soltanto persone che hanno a che fare col mondo della comunicazione come dicevamo prima ma per essere parte di liberi tv basta essere una persona libera che decide di comunicare qualcosa assumendosi ovviamente la responsabilità di ciò che si dice anche perché per noi è molto importante il rispetto della della privacy ma come anche importante il rispetto della della persona quindi contenuti che eh possono sembrare offensivi ovviamente eh ognuno si assuma la responsabilità di ciò che dice agli occhi delle delle persone che lo ascolteranno però noi non non affrontiamo eh il tema della censura eh in maniera ehm tradizionale eh togliendo dei contenuti perché eh riteniamo che ogni eh contenuto sia da eh da visualizzare da da conoscere in quanto la libertà dell'informazione alle volte passa anche attraverso eh dei temi scomodi che per l'opinione pubblica non sono degni di essere trattati e che invece per noi eh devono essere trattati per la trasparenza dell'informazione per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e per la trasparenza di tematiche sociali come per esempio la disabilità eh le tematiche legate alle religioni al mondo LGBT alla politica ovviamente ma anche tematiche come l'antiproibizionismo e tutto quello che concerne la vita sociale quindi a questo punto io eh concludo la mia relazione di tesoreria barra presidenza eh ringraziandovi per l'ascolto e soprattutto per la partecipazione non soltanto economica ma soprattutto la partecipazione eh in quanto eh soci in quanto eh parte integrante di eh una realtà bella eh come Liberi TV e che comunque per il futuro riserva sicuramente delle sorprese in quanto vogliamo dare sempre più credito a chi ci dà eh ci dà mandato insomma per portare avanti questa eh voce che Liberi TV eh in realtà poco conosciute e soprattutto la TV di servizio che da TV di servizio sta diventando una eh richiesta eh di eh voce dove voce non c'è. Io passo la parola a Marco Marchese che eh abbiamo designato appunto come speaker eh lui mi dirà eh quale sarà adesso l'ordine dei lavori anche se l'avevo già accennato io vi ringrazio e cedo ovviamente la linea alla regia Donato Colpicella che eh come sempre gestisce l'aspetto tecnico in maniera egregia. Grazie e buon proseguimento per il terzo congresso dell'associazione Liberi.tv Grazie a tutti.